Presepi tradizionali scavati nella pietra, in miniatura e a grandezza naturale, natività concettuali e paesaggi capaci di trasportare indietro nel tempo. Il centro storico di Castellaneta apre le sue chiese, i vicoli e i locali ai cittadini e visitatori desiderosi di vivere la magica atmosfera del Natale riscoprendo quella tradizione che non tramonta mai il presepe. Le tipiche luci di Natale, le note dei più conosciuti canti della tradizione natalizia accompagnano i visitatori lungo i vicoli del centro storico, portandoli ora nelle chiesette riaperte per l'occasione come Santa Maria del Rifugio, una vera e propria bomboniera all'ingresso di Via Vittoria Emanuele che racchiude la mostra dei presepi in miniatura della confraternita della Dolorata e la chiesetta di Santa Chiara con il presepe a grandezza naturale, ora nelle caratteristiche cantine che svelano vere e proprie opere artigianali protagoniste dell'undicesima edizione della mostra dei presepi a cura della confraternita del Santissimo Sacramento e dell'associazione Castellanetum Antica Menia, come il presepe scavato nel tufo o quello ambientato nel tipico paesaggio delle gravine o ancora quello che trasmette un messaggio sociale dopo i fatti di Parigi. Spazio poi ad antichi mestieri, ruscelli, mangiatoie, statuine meccanizzate vere e proprie opere d'arte dei maestri presepisti. Tutti i presepi del centro storico saranno aperti sino al 6 gennaio, visitabili dalle 18 alle 21 con la possibilità da parte dei visitatori di votare il presepe preferito tra quelli che partecipano alla mostra che sarà premiato nella cerimonia del prossimo 5 gennaio. Grazie 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 Grazie